Ciao a tutti, questo è un video in collaborazione con Eleonora, Camrush ed Elvira, LASMR, di cui vi lascio i canali qui e giù in fondo nell'info box. Abbiamo scritto insieme una storia e questa che state per ascoltare è la seconda parte, vi invito a visitare anche i loro canali per sapere come inizia e come finisce questo racconto fantastico. E mi raccomando lasciate giù un commento per farmi sapere e far sapere a tutti noi se questa nostra idea vi è piaciuto. Ma iniziamo. Elvis posò il suo sguardo su quella fatina che ticchettava sul vetro della finestra. Dopo qualche secondo chiuse nuovamente gli occhi. Ci risiamo. Ho decisamente troppa fantasia. Si rimproverò nella mente. Ma quelle parole non servirono a far sparire la piccola creatura, che anzi era riuscita a intruvolarsi tra i gardi. E adesso si trovava proprio di fronte al ragazzo. Elvis riaprì gli occhi. A dieci centimetri dal suo naso, una donnina in miniatura, piccola come una mano, dotata di ali trasparenti e di lunghi capelli scintillanti, svolazzava in un morbido abito del colore dei brati. Elvis fece un balzo all'indietro. Chi sei tu? Leto mandò palpettando timidamente. La fatina gli sorrise e con sguardo dolce inclinò la testa, facendo brillare di verde la bacchetta incantata che impugnava nella mano. Il sorriso lasciò il posto a un tiepido. Io sono la tua fatina. Il ragazzo era confuso e forse ancora troppo assonnato per provare a razionalizzare questa strana apparizione. La fatina volò più in alto, gli fece un giro attorno alla testa e si posò infine sulla sua spalla, lasciando tutti intorno danzare nell'aria una sottile polvere smeraldina. Vengo da un mondo lontano, disse iniziando a giocherellare con i capelli, un mondo in cui l'acqua scorre dal basso verso l'alto e la notte ha il colore del tramonto. A Herbis ricordava le storie che scriveva, quelle che lo riempivano di gioia. Ho fatto un viaggio molto lungo per venire a trovarti e per portarti con me. La fatina aveva la voce del vento di primavera che accarezza gentile le foglie degli alberi. Portava sul capo una coroncina di fiori intreggiati da cui proveniva un delicato profumo. A metà tra la meraviglia e lo stupore, Herbis iniziò a pensare che il troppo fantasticare gli avesse giocato uno strano scherzo. Forse era proprio ora di smetterla con i divertimenti da bambino. Forse bisognava che si decidesse finalmente a entrare nel mondo degli adulti perché le fate restassero chiuse tra le pagine dei libri. Eppure quel profumo di fiori, quella scia di brillantini che la fatina lasciava sospesi dietro di sé, lo riempivano di speranza, di ardore e di serenità. Elvis non fece neanche in tempo a domandare alla fatina cosa volesse da lui o dove si trovasse di preciso il suo mondo. In un battito d'ali e uno spatter di ciglia erano già altrove. Forse in una fiaba, forse in una realtà nascosta, quella più vera. Elvis si guardò attorno. Il cielo era rosa come i confetti e al posto delle stelle tante minuscole fatine luminose danzavano facendo il solletico alle nuvole. L'erba era fresca e soffice e l'aria profumava di caramelle al limone. Dove siamo? Chiese il ragazzo. La fatina gli strinse con le piccole dita il pollice della mano. Seguimi, disse indicandogli un sentiero di ciottoli. Elvis fece appena in tempo a posare il piede sulla strada, che subito rimbalzò come fosse su un tappeto elastico. Questa è la strada rimbalzina, disse la fatina. Le persone insicure la percorrono di continuo e non fanno che rimbalzare da una parte all'altra, sentendosi sempre poco stabili. Esitò un momento, pensando alle sue ali, per via delle quali non era mai riuscita a far altro che volare. Poi si strinse nelle spalle e sospirò. Però deve essere bello poter rimbalzare qualche volta. Ai lati della strada, Elvis riconobbe i ciliegi. Invece dei pedali, ciliegie rosse e invitanti ne ricoprivano i rami. Erano così lucide e rotonde che il giovane non riusciva a fare a meno di guardarle. Gli sembrò di sentirne in bocca il sapore, lo stesso, intenso e succoso di quelle che da piccolo rubava dal cesto in cucina, mentre la nonna preparava per lui quelle deliziose torte al frutto. Era stata proprio la nonna, un'intelligentissima maestra di scuola, oltre che ottima cuoca, a tramandargli l'amore per la scrittura e a spronarlo a fantasticare. Tra una torta di frutta e una fiaba, gli insegnò che le storie erano come le ciliegie, una tira l'altra. C'è sempre un'altra storia dietro a una storia, e scrivere è il modo più bello e sicuro per custodire in eterno i propri pensieri e condividerli col domani che verrà. Cullati da dolci pensieri, Elvis e la Fatina giunsero sulle sponde di un lago cinerino. Si fermarono, osservando la perlescenza delle piccolissime onde attraversate dalla luce delle fate. «Sai nuotare?» chiese lei. Elvis si ricordò di quanto fosse stato difficile per lui imparare a stare a galla. La piccola creatura, dai lunghi capelli, si accostò al terreno, recuperò un sasso e lo forse a Elvis. Lo invitò a succhiarlo, così che potesse respirare. Sott'acqua, il ragazzo seguì le istruzioni della sua nuova amica. Quel sasso sapeva di pizza alla salciccia di tofu. A Elvis non piaceva tanto il tofu, preferiva le ciliegie. Ma quella misteriosa donnina con la pacchetta magica e la corona di fiori aveva un'aria familiare che gli infondeva fiducia. Questa è la strada più breve per te, ma io non posso tuffarmi. Mi si bagnerebbero le ali. Al di sotto del lago c'è di nuovo il cielo e più sotto la terra ferma. Ci vediamo lì. Senza pensarci due volte, Elvis si immerse completamente, nuotando verso il basso. Sul fondo l'acqua era via via più cristallina, calda e rassicurante. Dopo almeno mille bracciate, con in bocca l'ingusto di pizza e di tofu, il ragazzo riemersse. Tra gli scogli muschiati, lambito da onde monotone, si ergeva un palazzo. Un gigantesco palazzo, a forma di conchiglia. E ora, cliccate sul canale di Glamrush per sapere come va a finire questa storia. Grazie a tutti.